ragazzi cosa state facendo ragazzi mister scalza bimbi ci ha nascosto un tesoro per halloween nella cesta nel tesoro nella cesta nella cesta di pinguino ecco ragazzi questa è la nostra cesta ma cos'è è una scatola misteriosa vi fidete di aprirla andiamo in camera e apremola andiamo nella vostra camera dai ragazzi correte fatemela vedere attenti se è un trucco può darsi sia un trucco una scatola magari di dinamite ma è così scatola bimbi ci ha fatto un regalo ma secondo me sono all'inizio di halloween ah ma cos'è questa qui è una zucca ma cos'è il cofanetto fatemelo vedere è il cofanetto di halloween halloween il cesto dei regali mostruosi eh ma c'è un'altra di queste zucche questo è arrabbiato l'altra non mi era arrabbiata ragazzi sono com'era ragazzi guardate cosa c'è dentro in questo cestino ma questo cos'è amorbi è un gommosissimo mi ha preferito sono un coccodrillone blu guardate è anche qualcosa che ha usato scalza bimbi guardate scalza bimbi potevi anche guardarli prima di aprirli ma non aprirli ma lì cos'è una barra fammela vedere una dosca lì una barra wow è veramente una barra c'è uno slime un po' secchito secondo me scalza bimbi l'ha tenuto un po' troppo in sta barra eh sì anche secondo me fai vedere c'è una tarantula ma è terribile un po' troppo gigante un'altra tarantula questo è uno scorpione eh che schifo no 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 vabbè ma è finto scalza bimbi non è divertente se stai ascoltando questo questo è un bruco magico è un verniciatolo magico ciao bimbi chattolo quanto sei mormido l'esca per i pesci potrebbe essere lo vogliono andare a pescare no questo non si può è veritato questo qui è un altro dammi queste sono stelle filanti guardate con Halloween dove erano? ah ce n'è un'altra queste sono stelle filanti con Halloween bellissime con tutti i mostri raga per vedere sta cosa mi scopo in aria adesso ve lo farò vedere raga si vogliono chiudere questo questo cazio raga adesso il video guardate tre due uno e c'è tutto e c'ha la e che c'ha c'ha la faccia da zucca è vero non ne ho accorto ma dentro ha una girandola senti dentro ha una girandola ah si è di ferro perché si deve si deve tutto ridurre piegare per andare dentro a quel vasetto al suo contenitore beh direi che questa scatola dei giochi è bella dai eh ragazzi è vero ragazzi lasciate like su questo canale lasciate scolta bimbi arriverà dobbiamo scoprire chi è innanzitutto va bene salutiamo i nostri amici allora e prepariamoci eh ragazzi prepariamoci per altri video su Halloween eh mamma camera non me lo chiudi per favore adesso arrivo al sotto del nostro canale ciao 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 ciao